Buongiorno, sono Angelo Pierobon, sono il cotitolare della dittalba SRL, produciamo imballaggi flessibili per le aziende, per l'uso industriale. Siamo decisi nel rinnovare l'azienda e quindi sul puntare su un'azienda 4.0 con un macchinario nuovo, completamente comandato elettronicamente, come necessità sia del mercato, sia per continuare a crescere e cercare di mantenere anche un livello occupazionale che sia adeguato. Il mercato e l'evoluzione della tecnica inevitabilmente spingono le aziende nel rinnovare il loro parco macchine, lo è stato in passato, lo è anche oggi, certo oggi è un pochino più difficile, i tempi sono cambiati, la marginità delle aziende è scesa e arrivare a un investimento importante è più complicato, sicuramente lascia molto più da pensare. Però bisogna avere anche il coraggio di credere nella propria azienda nel futuro di questo lavoro e che l'azienda 4.0 è la naturale evoluzione di un'azienda che è nata nel mio caso nel 1985 e che però vuole continuare a rimanere sul mercato e a cercare magari di conquistare nuovi clienti anche in futuro.